In volo con voi è un salto, è voglia di andare... Urosko Vacevic, una partita che si era messa subito in salita, però Trento è stata bravissima a trovare questa vittoria. Devo dire prima di tutto che è stata una di più difficili partite che abbiamo giocato a sicuro questa stagione, è sicuro una di più difficili partite che gioco in Italia, è stata durissima, Padova è una grande squadra, soprattutto gioca benissimo a casa e noi siamo tanta roba perché siamo riusciti a vincere questa partita che veramente in un momento sembra che perdiamo 3-0. Per quello sono molto orgoglioso della mia squadra perché abbiamo messo tutto e alla fine quando erano punto a punto abbiamo dimostrato che abbiamo più esperienze. Adesso una vittoria che fa anche molto bene al morale, visto i prossimi impegni che ci sono, adesso si parte subito per la Polonia. Sì, proprio adesso prendiamo aereo e andiamo a Polonia, sarà dura, sicuro questa partita era importantissima per noi, e poi ancora complimenti di squadra di Padova, sono veramente stati forti questa partita, però devo anche dare complimenti tanti ai miei compagni perché veramente abbiamo fatto una cosa bellissima.